Ciao a tutti, oggi facciamo l'analisi a richiesta di NVIDIA. Dunque, prima di procedere con l'analisi dell'azienda, ti ricordo che hai la possibilità di chiedere un mio personalissimo parere su una qualsiasi azienda che vuoi che venga analizzata, solo se metti un like e se condividi questo video. E ovviamente, se metti il like anche alla pagina, avrò modo di taggarti per informarti una volta pronto. Tornando all'analisi, NVIDIA è un'azienda che produce processori, schede madri e altri componenti per PC, quindi in sostanza è nel settore informatico, e ora andiamo ad analizzarne i dati di bilancio. Dunque, secondo me NVIDIA è un'azienda molto sana e ora ti spiego anche il perché. Fatturati, come puoi vedere, sono in crescita in 4 anni, ha chiuso a un 107%, utili netti sul fatturato in crescita e di parecchio, utili netti in crescita, i numeri puoi vederli anche tu, del 382%, l'utile netto in crescita, EBIT in crescita del 323%, ti ricordo che le EBIT sono gli utili anteimposte, l'aliquota è in calo del 71%, quindi ottimo, profitto lordo in crescita del 124%, perfetto, margine di profitto lordo bello alto e in crescita, dell'8% circa, debito corrente raddoppiato in 4 anni, ma può essere ben gestito, con degli utili netti e dei fatturati così in crescita, soprattutto se l'utile netto sul fatturato addirittura è in crescita. Debito a lungo termine, stesso discorso, è cresciuto del 42%, ma è tranquillamente ammortizzabile. Inserendo il numero di azioni in circolazione, possiamo notare come abbia un rapporto debito utile inferiore all'1, e non solo è inferiore all'1, ma sta andando anche a scendere di parecchio. In 4 anni, per la precisione, ha perso un 57%, quasi 58%. Analizzando più nel dettaglio, possiamo vedere che ha un rapporto debito utile di 0,46 nel 2015, ovvero per ogni euro di utile vengono creati solo 46 centesimi di debito. Nel 2016 solo 48, nel 2017 solo 29 centesimi di debito per ogni euro di utile netto, e nel 2018 solo 20 centesimi per ogni euro di utile netto. Spese generali amministrative di vendita in crescita, costi di ricerca e sviluppo peggiorati del 32% in 4 anni. Io ho fatto un'analisi anche del prezzo, e personalmente penso che, purtroppo, ora come ora, il prezzo di Nvidia è veramente troppo alto. Non sto dicendo che non li valga, assolutamente no. Penso che anzi sia un'azienda sana e con ottime prospettive di crescita in futuro. L'unica cosa è che non la comprerei mai, adesso come adesso. Paragonerei questa azienda come a un treno perso. L'ideale sarebbe stata acquistarla quando era a 25, quindi nel 2016. Nel 2016 girava intorno ai 25 dollari per azione. Quindi ti ripeto, Nvidia è un'azienda molto sana, con prospettive di crescita in futuro, secondo i miei parametri, secondo il mio parere. Però io acquistarla ora come ora ci penserei due volte. Perché è ok che i numeri sono bellissimi, io ho fatto anche un'analisi dall'altra parte del foglio, qui in Calcoli, però il prezzo per i miei parametri è cresciuto troppo. E ti invito ad andare ad inserire, se hai già scaricato il mio file Excel, di andare a inserire i dati di Nvidia anche dall'altra parte nel foglio Calcoli. Ti ricordo che questa analisi è un'opinione mia, personale. Spero che questa breve analisi ti sia piaciuta. Ti ricordo che se vuoi chiedermi che venga analizzata un'azienda, devi prima mettere il like e condividere questo video, e ovviamente mettere il like alla pagina se non l'hai ancora fatto, così posso taggarti quando il video sarà pronto. Dopodiché puoi scrivermi nei commenti l'azienda su cui vuoi che ti dica il mio parere. Ti saluto e ti auguro tanti buoni investimenti. Ciao!